Buongiorno ragazzi, sono Mr. Hobby e benvenuti nella seconda parte del mio vlog in merito a come rendere elettrica un'auto azionata da motore a scoppio Ecco qua, vi ricordate nel primo video? Vi ho fatto vedere quali pezzi avevo creato in tutta semplicità per apportare le dovute modifiche al mio automodello In questo caso un automodello della Mantua Model, Rally Race Ecco, qui possiamo vedere il motore perfettamente installato sul telaio dell'automodello Ecco la flangia fissata con tre punti Primo, secondo e il terzo è qui dietro qua Naturalmente come avevo annunciato nel primo vlog non ho praticato fuori al telaio madre dell'automodello Ma bensì mi sono agganciato ai fori già esistenti sul telaio Cioè i quattro fori presenti per il fissaggio del motore a scoppio mediante il suo castello motore E' il foro davanti qui che in origine era per attaccarci in pratica Questo supporto qui al quale veniva fissato il serbatoio In pratica io, in tutta semplicità, praticamente con questo video voglio far vedere come realizzare un qualcosa di, diciamo, utile e ingegnoso Nel modo più semplice possibile Allora, in questo caso, essendo questa un own road In questo caso, oppure una rally game Cioè questa è una rally game In questo caso, per fissare la batteria Che adesso è sotto carica perché l'ho appena provata In questo caso Ho messo del feltro forte Qui sulla paradia, la fiancata di protezione Questa opzione della Mantua Model di qualche anno fa Ma in più, se questo non dovesse bastare Ho addirittura messo queste due torrette Cioè ho lasciato la prima torretta Per il fissaggio del serbatoio E spostata la seconda su quest'altro foro Così da poter metterci una semplice fascetta di plastica Alla quale, se capita che la batteria si stacca in movimento Posso agganciarla a questa fascetta Tramite del feltro adesivo o altre fascette di plastica Quindi non se ne va via Però, fino adesso, va bene il feltro adesivo che ho messo È ottimo, questo è molto resistente, è forte Dopodiché Ci ho fatto già due scariche A breve il video Della macchina in movimento E come avevo annunciato ho usato una corona da 54 denti A differenza della 56 in origine Con un pignone da 16 denti Purtroppo in questo periodo c'è un po' l'asfalto bagnato Quindi non mi rendo conto Realmente della velocità effettiva del modello Che mi sembra comunque a sufficienza Però, vedendo la temperatura del motore che rimane tiepido E la temperatura dei cavi e dei connettori Posso affermare che potrei azzardare Ad installare un pignone addirittura più grande E una corona addirittura più piccola Quindi potrei da 16 portare il pignone a 20 Anche se dopo avrei dello spazio risicato per la regolazione Quindi dovrei trovare più un binomio Tra corona più piccola e pignone più grande Quindi fare un 19 per esempio Un 17 con una corona da 50 Diciamo così Per usufruire di una velocità superiore Che comunque secondo me Si aggira tra i 70 e gli 80 km orari Ricordo che vado a 4S Perché è un motore da 2000 KV E' un motore che non supporta le 6S Quindi arriva fino alle 4S Infatti si vede la sua grandezza Si può notare questo Repilogando Allora la flangia l'ho fissata al telaio Base tramite i fori già esistenti Mediante 3 punti di cancoraggio E il motore tramite un'altra flangia Nata come supporto per i motori elettrici Questa qui è fissata su questa piccola flangia di basamento Tramite due perni I quali passano su due fori leggermente isolati Per permettere La giusta calibratura Tra pignone e corona Niente di più semplice In pratica un lavoro di 2-3 ore di tempo Il tempo maggiore occorre a lavorare la flancia Perché comunque io ho usato una in dura alluminio Cioè ricavata da un telaio accidentato E a quando dura E quindi ho dovuto lavorarci un po' di più Ma se usate dell'alluminio normale Tradizionale con un seghetto alternato Vedrete che in una mezz'oretta di tempo Riuscite a sacomarla E fatto questo Naturalmente dovete prendervi i vari riferimenti Per i perni E la fissate al basamento Dopodiché Non c'è nemmeno bisogno di mettere Di praticare i due fori tramite Trapana a colonna Basta un po' di Diciamo Di Di accortezza E i fori li potete praticare Direttamente con la flancia Ancorata al telaio Quindi prendete i segni E con un trapano Praticate i due fori Direttamente con la flancia Attaccata al telaio Così da sbrigarvi prima Naturalmente Prestate un po' di attenzione Nella precisione Durante L'esecuzione del foro Mi devo ritenere Alquanto soddisfatto Sono riuscito a rendere elettrica La mia rally race Della Mantua Model Prima avevo problemi Di carburazione In base al medio La benzina Le candele Adesso tutti questi problemi Sono spariti Ho fatto due Con l'Audi Due scariche Ho effettuato due scariche Di batterie Sto usando delle zippe 3.700 Ma oramai Non saranno nemmeno Più 3.700 Per 15 minuti Mi garantiscono Circo 15 minuti Di Sgommate Non vi resta Che rimandarvi Alla terza parte Del video Che verrà pubblicata A breve Che praticamente Andremo a vedere La macchina In movimento Prima di salutarvi Vi faccio vedere Come ho installato I vari componenti elettronici Il servo comando L'esc L'ho messo qui Lo potevo anche mettere qui Ma ho preferito mettere l'interruttore Qui naturalmente C'è la scatoletta Con la ricevente Ecco l'antenina E Devo dire che Questi modelli Di Mantua Model Si prestano molto Facilmente All'installaggio Di motori elettrici Infatti se vedete La batteria viene qua E Quindi I componenti Sono ben distribuiti Sull'automodello Ok ragazzi A presto Con il mio Ultimo vlog In merito A come Rendere brushless O elettrica Un'auto RC Ciao a tutti Da Mr. Hobby E Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per seguire le mie avventure E se volete Rimanere sempre aggiornati Spundate sulla campanellina Quindi Quando andiamo in diretta Con gli amici del team Oppure Quando vengono caricati I nuovi video Siete i primi a saperlo Ciao a tutti Da Mr. Hobby Grazie a tutti